Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! E con la cappella di fuori No no, non era così Fai vedere chi siamo Nooo Era una gag Te la sei presa? No, però Onesto, una sleeping potevate accettarla Cioè comunque non dormiamo dalla settimana Dove salvi? Oddio Aia Proprio Aia Porco brescia Non sei credibile eh Chi c'aveva paura fosse Topini Ciao Topini Posso prendere la sedia? Ciao Topona Certo, ciao Topona Topini Non ho capito, non ho capito Bella Topona Topina Possiamo dirloci o no? No Mamma mia che palle eh Si è abbronzata eh Come fai? Ma scusa, aspetta chi c'è qua nel backstage? Cazzo ci va più? Vieni, vieni Siamo in diretta Siamo in diretta Siamo in diretta su Twitch Ciao 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 Siamo in diretta su Twitch Questa è mia Grazie, grazie Sì 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 Sto cazzo Ma qua non sono qua per scherzare caro No 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 Non sono qua per scherzare caro Io vengo a fare qualche lavoro di merda No 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 E non vengo qua per picchiare quel culo Hai capito? Non sto scherzando No, non facci caso che lui scherzava No hai capito quello che ti voglio dire? Non mi fa capito Cazzo ci sono riuscito No Posso dire la peggio cake della storia delle cake? Era una cake Sì Poi io mi cazzo con la produzione Perché avevo detto Portatemi un cazzo di pizza Cioè potete metterla pizza smart delle S Lung Che lui la scambi in un secondo E poi la pizza si può portare così Ma capito? Ma lei è in clove? Guarda la pizza, è in clove così Ma prendi solo del lavoro Ma la roba del genere Ma non fa niente Ma la roba del genere Ma che bravo con la felpa Perché una donna non può far vedere le sue curve No, no Ma era questa la clip vera Io prendo le distanze totale Ma era questa la clip vera Io non inviterò più Fulbellar No davvero mi ha fatto assolutamente ridere questa roba No io mi distan... No davvero vai via Vai via No no Sto roba non mi va bene a me Ciao Rosso A me non va bene sto roba Ma non va bene A me scherzare un sitone così non va bene Certo Ma è passato Ferrari? Vediamo la macchina Vediamo la macchina No ma che macchina E per gira qua Amica si è stanni E' in isola senza Ferrari Guarda che noi non ti giudichiamo Se vengono con la punta No c'è No c'ho la Suzuki qua La Suzuki? 80.000 euro Quella che usa per fare la spesa Ma che è una Suzuki brutta Massimo Ti dico Se è più bella della nostra No No Ma c'è una luce così Comunque No Pochi giorni Perché devo andare Ma che sono stronti qua? Eh? E poi da qui Oh Non sto Sto E poi da coglioni No Stronzo 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 Sono nel club Con una scema La porta al ristorante Mangia solo patanegra Allora vai qui là Dove? Amore Girati verso me Oddio ma cazzo sono i salari porto Chat Spomotte cose da truccare Parla con la chat Ne partiamo un mio ordine da mangiare Perché è FF di che? Allora cosa volete che gli metto in faccia? Eh la figa Dai No non te Cosa vuoi da me? Esatto Pronti? Osanna Osanna Dovete continuare a cantare Ma è un po' Dovete continuare a cantare È in loop È in loop 2 2 Osanna 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 Continua Italian Barman Perfetto See you soon 22 July Perfetto Settimo dopo Ciao belli Ciao Ciao Lutovini Ah Ah Salù curiere Maggi Basta che Ma che combina Scusa Mi sono dovuto Sfruttare Eh Che cosa No Il seno Sanchi tutto bene? Che è successo? Giammo Giammo Oh yeah Vieni qua che io non ti sente Fa così Sì sì Dai Scusami Mi odio un po' Francesco in questo momento Ragazzi Mancano tre abbonamenti ragazzi Tre abbonamenti E raggiungiamo E raggiungiamo E raggiungiamo L'obiettivo di Alexi Che si potrà tatuare Eeeh Francia No no Stateli fermi Stateli fermi Che dovete entrare tutti insieme Vabbè Abbiamo lo stesso L'altro ragazzo c'è? Giorgio Ma che Giorgio? Come? Saverio Un prete Mi metti di discusa E' CBD E' CBD E' CBD E' CBD legale E' CBD legale Ma tu lo sai che noi non siamo in Italia Lo sai che se tu fai una streaming ad Amsterdam Puoi fumarti pure la Madonna Eh ma loro che ne sanno che tu sei Ma appunto Ti dice che noi siamo uno studio in Italia No no Siete in Italia Se avete mi mando pure la via No eh E io mando la via di casa tua a stronzo Comunque sei cambiata da quando ti sei fidanzato Ancora Perché dovevi venire in bagno Alexi? Quando vai in bagno fa questo? Dovevi farla più C'è una volta che vai in bagno Ma che c'hai chiamato? Ma poi Carazzo la figa di butto Dove è? Dai Ma ti metti a pippare in bagno? Ma ti metti a pippare in bagno? Ma ti metti a pippare in bagno? Qui c'è una pippata vai avanti Sta rotito Ma tu sei scemo? Ma poi è questo che ci fa nel bagno? Quanto sei una porca Guardi se sei sponso Mi puttana l'ammazzo! Matte trattino basso G trattino basso G trattino basso G trattino Che è successo? Allora? Eh d'accordo Allora Prende Alexi un attimo Eh c'è Alexi Tu secondi Alexi? Eh raga tu secondi porto Diaz Eh prendiamolo via Come prendiamolo via? Eh un secondo Venga 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 Signora che torno con un bastone A che parte di Twitch sono rimasto? Allora l'ultima Alla sua ultima volta in cui era su Twitch Ero con Cecchi Paone L'ultima volta che ho fatto la live Prima quarantena Vuoi salutare Cecchi Paone? Eh proviamo Come no? Vediamo se mi risponde Perché non siamo finiti Tanti buoni rapporti Voleva scoparmi Sì sì Va bene Non saresti l'unico Pippandoti sul cazzo? Come? Pippandoti sul cazzo? Non lo so Non ho chiesto dettagli Però Non lo so Sembrava quello Ma chiamate Ma chiamate Ma sai partire se no? Mazzate Mamma mia È andato È andato Ma questo è fresco Ma che Ma che Ma che Ma che Ma che Ma andate Ma ciacca R6 maggiore virginia Che non accada Mai più per fuori Certo bro Ma c'è ragione E appunto Che salvataggio Che salvataggio Ho avuto un salvataggio Che salvataggio